Sopravvissuto ad un terribile incidente, quasi miracolato, Giuseppe Strada è rinato una seconda volta ed ha deciso di percorrere una nuova strada, parallela ma diversa. Ha lasciato la sua farmacia, inizialmente perché costretto a causa delle precarie condizioni di salute e poi per scelta, o forse meglio per vocazione. Senza mai rinegare il suo passato, ben consapevole dell'importanza della medicina e della farmacologia, ha arricchito il suo sapere approfondendo la conoscenza dell'organismo umano, una straordinaria macchina da amare e rispettare secondo le leggi della natura. Giuseppe Strada è un farmacista e qui con me abbiamo deciso concordato di darci rigorosamente del tu, giusto Giuseppe? La tua storia è davvero molto singolare, tanti anni fa la tua vita è completamente cambiata in seguito ad un incidente stradale. Prima appunto avevi la tua farmacia, quindi svolgevi la tua professione, avevi comunque una certa propensione verso tutto ciò che diciamo così è naturale, tra virgolette, però poi questa tua attitudine si è diciamo così accentuata dopo che tu sei sfuggito alla morte, possiamo dire così? Per necessità. Per necessità. Ci vuoi raccontare come è avvenuto questo cambiamento? Cos'è successo? Niente, io il 3 di marzo del 87, alle 3 del pomeriggio, ho avuto un incidente gravissimo, un cambio che viene davanti a me, mi ha preso frontalmente e in quell'incidente gravissimo, ho riportato 12 fratture delle costole, tutte e due le braccia rotte, tutte le gambe rotte, la minza miandetto spappolata con un litro di sangue nella panza, un polmone si è collassato perché è una costola ma ha bucato la pleura del polmone, ho avuto un primo motorazio e primo mediatino, ho avuto la paralisi del radialo della mano destra, dell'epa del piede sinistro, ho la paralisi dei musculari, lo scaldinamento del bacino con l'interessamento delle vertebre dorsali, ho avuto tutte e due le caviglie rotte, a sinistra mi mancavano 8 cm di tibia, ginocchio destro rotto, ho fatto praticamente quasi un anno a letto, 3 anni con la sedia di rotelle, dopo 7 anni con due stampelle sono tornato per la prima volta in farmacia con due stampelle per la prima volta. Certo, sei stato in coma una settimana, hai praticamente rischiato la vita, i medici non erano così ottimisti. Sì, ho fatto un mese di rinamazione, pensavo con tutti che morissi. Invece ce l'hai fatta, e a seguito appunto di questa tua rinascita, possiamo anche chiamarla così, tu hai fatto una sorta di voto, qual è? Ho promesso a Dio che se fossi tornato a vedere i miei figli, che avevano 3 anni, 5 anni, avrei messo a disposizione, non a scopo di lucro, alle persone, tutto quello che sapevo e avrei cercato di imparare ancora di più per poterle aiutare. Quando tu hai fatto questo incidente, chiaramente sei stato ricoverato per lungo tempo in ospedale, tra l'altro poi hai avuto altri due incidenti e chiaramente hai dovuto fare una terapia farmacologica, come è normale che sia. Dopodiché tu hai deciso, tra virgolette, di disintossicarti, è così? Sì, in 3 anni ho eliminato tutti i farmaci e dal 1990 non prendo nessun farmaco e non faccio raffreddore, influenza, maligola, niente, dal 1990. Quindi oggi hai 64 anni? 64 anni. E stai bene e sei in forma? Sì, grazie a Dio sì. Ogni giorno prendi quanti integratori? Circa 150 al giorno, 54 a pasto circa come integratori, però che gli integratori comprendono tutto quello che l'organismo sa fare in quantità superiore. Io sono un fautore della medicina orto-molecolare di Linus Pauling, cioè è lo scienziato che a me ha dato di più, che mi ha fatto capire che aiutare l'organismo a mettersi in salute vuol dire fornire tutte le cose che gli servono, perché lui è capace di fare tutto, se non gli dai le cose vuoi in malattia, se gli dai le cose ripristi, le cellule sono sempre in continuo ricambio, quindi cellule che muovono, in base a quello che tu assumi ogni giorno con l'alimentazione o con gli integratori. Tu sei molto fedele e anche grazie appunto a questa tua fede che sei riuscito a superare appunto anche un momento davvero molto difficile della tua vita e dicevamo da allora tu ricevi gratuitamente persone che vengono da te per fare delle consulenze. Sì, sì, sì. Non tocco le terapie mediche, lascio fare ai medici quello che vogliono fare, io aiuto l'organismo a rimettersi in salute fornendo all'organismo tutto quello che serve all'organismo in base ai problemi che uno ha, in base agli esami del sangue, in base ai sintomi, in base alle problematiche che uno ha. Ecco, si parte appunto dagli esami del sangue che sono molto specifici, ce ne parli? Gli esami del sangue bisogna innanzitutto fare una specie di un check up, perché se tu fai solo alcuni esami non è possibile vedere l'organismo come va. Una volta che hai fatto un check up completo vai sulle tue debolezze, perché l'organismo se ha delle debolezze in alcuni organi, se non lo aiuti andrà sempre peggio, però se non fai un check up non puoi vedere queste debolezze. Hai sintomi, vai dal medico, ti toglie da un farmaco che toglie un sintomo, crea altri due danni e tu sarai sempre, rincorrerai la malattia da un giorno all'altro, sempre così farai. Mi dicevi prima che chiaramente è fondamentale anche saper leggere quello che è l'esito degli esami del sangue. Ci sono degli esami che è ideale avere al massimo con i valori normali e degli esami che è meglio avere al minimo. La medicina fa, cioè se riguarda l'80% delle persone con gli esami li considerano normali, però in quelli normali ci sono anche gli ammalati, quindi è importantissimo vedere i valori di questi esami. La medicina ufficiale serve nel momento acuto? Nel momento acuto può servire, sicuramente serve, però dopo il momento acuto serve un'alimentazione corretta, uno stile di vita corretto, fare dell'attività fisica e integrare l'alimentazione con tutti quegli elementi che l'organismo non sa fare, che sono indispensabili per riportare la salute della persona. Molteplici i fattori che portano l'organismo ad infecchiare e ad essere maggiormente soggetto rispetto al passato a patologie. Il complesso ingranaggio che genera l'infa vitale è destinato a modificarsi con il tempo, anche se in modo diverso da soggetto a soggetto. Sono state trovate scientificamente che noi invecchiamo e memoriamo per 14 cause. Infiammazione, glicazione, perdita dei metili, invecchiamento mitocondriale, calcificazione, squilibrio nonale, carenza di acigasse essenziali, mutazioni, alterazione del sistema immunitario, carenza di enzimi digestivi e non digestivi, problemi microcircolatori, eccitotossicità e radicali liberi che condizionano tutta la vita di qualsiasi persona. Quando c'è l'infiammazione nell'organo cominciano a crearsi dei problemi di squilibrio e l'organismo va verso la malattia. Quindi è molto importante, l'omega 3 è una delle cose fondamentali perché è indispensabile per far formare delle prostorlandine, la PG1, la PG3 antinfiammatorie e quindi è indispensabile. Poi ci sono anche altre cose tipo l'MSM, uno zulfo antinfiammatorio che serve a livello articolare, poi c'è la bromelina, un altro enzima antiossidante molto importante. Ci sono tante cose che permettono all'organismo di togliere l'infiammazione in base ai valori che uno ha. Ecco, una volta che tu leggi l'esito di questi esami, come poi procede la tua consulenza? No, in base agli esami che uno ha, io posso fornire, dire tu comincia a prendere questo al mattino, cioè gli divido gli integratori, mattina, mezz'ora e sera, in modo che ogni giorno uno prenda gli integratori che servono per riportare l'organismo in salute. Poi tu mi hai parlato del ruolo fondamentale che hanno i radicali liberi. I radicali liberi sono all'origine di tutte le malattie, di tutto, cioè noi siamo tutti atomi, ogni cellula è fatta circa da un milione di atomi. In quel milione di atomi l'atomo ha un nucleo al centro e degli elettroni che girano attorno, gli elettroni devono essere sempre accoppiati per mantenersi in equilibrio, quando per lo stress, lo smog, il fumo, l'inquinamento, eccesso di cibo, carenza di sonno, radiazioni solari, radiografie, farmaci, inquinanti, l'atomo perde degli elettroni, quelli che rimangono spaiati creano dei danni grandissimi. Allora la natura cosa fa? Cerca di riportare l'atomo verso la normalità, asportando a un altro atomo tutti gli elettroni devono essere accoppiati, quindi va a asportare degli elettroni a un altro atomo. Quello rimane senza, si crea una catena, una catena negativa che porta a tutte le malattie e all'invincamento e ai tumori. Durante la tua consulenza un ruolo principale ha appunto questa strumentazione che tu utilizzi proprio per riuscire a capire il livello dei radicali liberi e degli antiossidanti. Ce ne parli? Sì, no, io ho voluto subito, a me ho fatto, nelle terapie che mi hanno fatto, mi hanno fatto 120 radiografie e 40 al torace. Al torace ne facevano uno ogni due anni per il liberto sanitario, ma essendo troppo nociva non la fanno più. Quindi mi hanno fatto 80 anni di liberto sanitario tutto assieme. Allora lì io volevo sapere quanti ricalibri avevo. È arrivato da me un agente della Caligari di Parma dopo una decina di anni e mi ha detto che hanno trovato un metodo per controllare il ricalibri sul sangue capillare. L'ho preso subito. Come funziona? Cioè praticamente si asportano 20 microlitri, si punge un dito, col capillare si riempie, il capillare si appoggia, lui si riempie di sangue, ce ne uno da 20, uno da 50 microlitri. Questi capillari vengono messi in cuvette dove c'è un liquido anticoagulante. Una volta agitato vengono rimesse in altre cuvette dove una c'è un enzima, ci devono essere gli enzimi in tutte e due, però uno c'è già, uno deve metterlo. Una volta messi gli enzimi si centrifuga per separare i globuli rossi e poi si mette in uno spettrofotometro. Lo spettrofotometro dopo sei minuti calcola i radicali liberi. Invece dopo quattro minuti chiede l'emissione di una parte del campione per vedere gli antiossidanti. In sei minuti di macchina si vede tutto, sia i radicali che gli antiossidanti. Ecco, come deve essere il rapporto tra i radicali e gli antiossidanti? Allora, i radicali vengono fatti da 160 a 3 a 10, valori normali, l'ideale è avere i più bassi possibili. Gli antiossidanti 1,07, 1,53, l'ideale è avere i più alti possibili. Io ho già avuto anche delle evidenze di persone che hanno i radicali più di 400 con tumori, perché tutte le persone che hanno dei tumori hanno sempre più di 400 di radicali liberi. L'ideale è avere sempre i più bassi possibili. Con dei radicali più bassi non è possibile che ci sia un tumore, perché quando c'è il tumore proprio scatena queste reazioni, questa formazione di radicali liberi. Gli antiossidanti, io ho sempre detto ai miei figli, sono come degli operai che hanno dei sacchetti di elettroni. Quando per qualsiasi motivo l'atomo perde un elettrone, questi gli danno l'elettrone perso e questo non va più a rubarlo nessuno. E questo evita tutti i danni da radicali liberi praticamente. Quindi possiamo dire che questo potrebbe essere un sistema di protezione contro tutte le patologie? Contro tutte le patologie, qualsiasi patologia ha sempre l'origine da radicali liberi, tutte le patologie. Innanzitutto bisogna tenere un'alimentazione corretta, uno stile di vita corretto, fare un po' di attività via, non troppa perché troppa attività alza i radicali liberi e prendere integratori che alzano gli antiossidanti. Poi bisogna, ad esempio, dormire a sufficienza, 7-8 ore meno per notte, bisogna evitare gli stress, bisogna evitare tutte le cose che fanno aumentare questi radicali liberi e se gli antiossidanti sono bassi si prendono antiossidanti per bocca. Già ci sono una frutta e una verdura e è fondamentale. Frutta e verdura sono indispensabili. Quali sono le vitamine principe che consentono di combattere i radicali liberi? Sono le vitamine sia liposolubili, la D, la E, la K, che quelle idrosolubili. La K in modo particolare va tenuta, controllata, non è mai stato dato un integratore della vitamine K perché fa coagulare il sangue. L'importante è tenere il sangue più fluido possibile. Lì bisogna vedere anche quante piastrine uno ha perché se le piastrine sono numerose è più facile avere dei trombi. Quindi bisogna tenere ancora più fluido il sangue. In base a questi parametri qua si riesce, comunque ci sono le vitamine liposolubili e quelle idrosolubili, la C, la B1, B2, B3, B5, B6, inositolo, collina, taurina, poi ci sono degli amminoacini antiossidanti che sono importanti. Una volta che fornisci tutti questi elementi poi ci sono delle sostanze tipo resveratolo, epicalocatechina, silimarina, quercetine, che hanno una potente azione antiossidante. Più li fornisce all'organismo, più gli antiossidanti si alzano e più protezione hai contro le radicali liberi. Quindi tu dicevi che è fondamentale lo stile di vita, è importante l'attività fisica purché non sia eccessiva. Non deve essere eccessiva, perché io ho sperimentato tutto su di me con la prova dei radicali liberi. Arrivando a fare ancora un'ora di corsetta mi si alzavano i radicali liberi e si abbassavano gli antiossidanti. Sono arrivato a fare 100 metri di corsettina, 100 al passo con respirazioni, facendo così anche per un'ora gli antiossidanti si alzano e i radicali si abbassano. Io ho optato per un alimento del genere. Ecco poi si parla sempre più spesso di alimentazione e qui si apre veramente un mondo perché ci sono tante diverse teorie. È facile dire alimentazione corretta. Che cosa significa per te? L'alimentazione corretta deve apportare tutti i micronutrienti fondamentali per l'organismo, dalle proteine, alle vitamine, sali minerali, gli olicolumenti, ammino assistenziali, acidi assistenziali e fibre. Uno che apporta tutte queste cose in quantità ottimali riesce a mantenersi in salute. Ma tu credi che l'alimentazione di oggi possa, diciamo così, evitarci, se corretta chiaramente, la somministrazione di questi integratori oppure è molto più povera rispetto a quella preindustriale? Allora, innanzitutto bisogna tenere un'alimentazione corretta con cibi integrali, mangiando molta frutta e verdura che è fondamentale, evitando il più possibile tutti i cereali raffinati, lo zucchero, tutte le cose che fanno alzare la glicemia sono dannosissimi. E poi però bisogna integrare con degli integratori perché oggi abbiamo piombo, mercurio, buco dello zono, pesticidi, nitrati nei campi, plastiche, idrocarburi, tutte sostanze che danneggiano l'organismo. Quindi l'organismo ha più bisogno di protezione. Quando Dio ha fatto il mondo non serviva tutte queste cose, bastava dare sull'istinto. Dio ci ha dato l'olfatto, la vista e il gusto. Tu andavi su colore, odore e sapore dei cibi e sceglievi e lì c'era tutto. Oggi non puoi più. Dal dopoguerra, dal 48 in avanti, cosa hanno fatto? Coloranti, aromatizzanti, profumi. Ti pilotano tutto. Tu vai ancora su odore, colore e sapore, ma ti danneggia l'organismo. Perché tutte queste sostanze sono sostanze artificiali che non aiutano l'organismo, anzi lo danneggiano. Un corretto stile di vita implica un'alimentazione adeguata, ma il cibo che ingeriamo, oggi sempre più impoverito di elementi nutrizionali, non apporta la giusta quantità di sostanze necessarie all'organismo per mantenersi in salute. Giuseppe, quando queste statistiche ci dicono che la vita media si è allungata, cosa pensi? Non è vero, non è assolutamente vero. Allora ci sono quelli nati dopo il 48 che stanno iniziando a morire, quelli nati prima del 48 che resistono perché quando sono nati loro non c'era piombo, non c'era mercurio, non c'era inquinamento, prendevano il sole, l'alimentazione era corretta e si sono formati così forti che stanno resistendo ancora. E che cosa mi dici dell'acqua? L'acqua è indispensabile che innanzitutto abbia i nitrati sotto i 6 mg al litro perché i nitrati sono cancerogene, purtroppo nell'agricoltura utilizzano molto azoto per far crescere molti i prodotti della terra, l'azoto viene trasformato in forma di nitrati, i nitrati in un organismo formano introsamine potenzialmente cancerogene, quindi ogni bottiglia di acqua deve avere meno di 6 mg al litro di nitrati e deve avere un residuo fisso molto alto perché noi abbiamo bisogno di minerali, purtroppo il sistema ha fatto in modo che tutte le acque fossero oligominerali, adesso abbiamo qualsiasi bottiglia a meno di 800 mg al litro, avendo queste quantità così basse l'organismo perdendo i minerali va incontro a moltissimi problemi di salute, quindi è fondamentale avere delle acque che contengono più di 800 mg al litro di minerali. Quindi dobbiamo stare attenti quando acquistiamo l'acqua, dobbiamo leggere l'etichetta. Dove c'è residuo fisso a 180 gradi deve essere almeno 800 mg, almeno 2 litri di acqua al giorno perché se tu bevi poco, urini poco, non ti scarichi correttamente, non sudi, hai meno saliva, cioè tutti gli elementi che servono a buttare fuori ogni giorno sostanze tossiche dell'organismo. L'organismo ogni giorno introduce con l'aria, l'acqua, il cibo, sostanze nocive, devi riuscire a buttarle fuori, altrimenti si accumulano ogni giorno nell'organismo e portano invecchiamento, portano tutti i problemi del mondo. Alimentazione, stile di vita, attività fisica, sono le colonne che portano la vita, fondamentali. Ecco, ma come si fa a prendere così tanti integratori come dici tu quotidianamente, insomma è una fatica? È una fatica, è un sistema, ma si fa fatica anche a fare sport, chi fa sport sta meglio, si fa fatica anche a fare i lavori in casa, chi non li fa alla casa sporca, naturalmente in base ai problemi che ha, in base alle predisposizioni genetiche, perché fondamentali, se uno in famiglia non ha mai avuto nessuno che ha avuto malattizia, difficilmente si ammala, perché ha una genetica buona, quindi in base agli esami del sangue, al suo stile di vita, alla genetica eccetera, deve introdurre degli integratori che gli permettono di evitare i problemi che in famiglia si sono verificati, soprattutto chi ha le piastrine basse io dico tu vivrai a lungo, veramente, c'è la prima cosa che dico è questa, perché meno piastrine ci sono, più uno vive a lungo, meno possibilità di avere trombi, infatti, cioè la coagulazione del sangue non avviene, molte piastrine che con l'infiammazione eccetera danno origine a dei piccoli emboli interni, dei piccoli grumi, che poi chiudono la coronaria infarto, con una telecelebrale ictus, vi dicendo, bisogna fare in modo di tenere più fluido possibile il sangue, più alte sono le piastrine. Le eucociti? Le eucociti sono importanti, ma soprattutto fra i le eucociti è importante il reparto dei linfociti, le eucociti sono l'esercito, i linfociti sono un reparto dell'esercito, è un reparto fondamentale contro i tumori e contro l'herpes, quindi avere dei buoni linfociti che vanno sui 30 circa come valore è l'ideale. Che ruolo gioca invece lo stress per quanto riguarda la nostra salute? Lo stress è un'ideale per tutti, lo stress alza moltissimo i radicali liberi, abbassa gli antiossidanti perché una persona felice, serena, ha sempre gli antiossidanti più alti, quando una persona è triste o anche non dormire di notte, anche avere dei rapporti sociali che non sono correttiche, si abbassano molto gli antiossidanti e quindi avere dei antiossidanti bassi, radicali liberi alti vuol dire andare incontro a tutte le malattie. E quindi è fondamentale chiaramente correre ai ripari. Sì, è importantissimo. Questi integratori vanno presi durante tutto l'arco della vita? Sì, quando uno mangia, assieme al cibo che mangia, devi metterci gli integratori delle cose che mancano nei cibi per avere il massimo di efficacia, di funzione nell'organismo. Quindi questa è la vera prevenzione? Questa è la vera prevenzione. Invece la prevenzione che fa la medicina è vedere, non so, fare l'ESA, che va benissimo come prevenzione, però non è quella che permette di vivere a lungo e stare in salute. È una prevenzione passiva, che serve, ho detto, è fondamentale. Però una volta che hanno trovato un tumore, così viene fatto chemia o radio. Va bene, perché va benissimo. Però bisogna potenziare il sistema immunitario in modo che questo diventando più forte riesca a superire tutti i problemi che ci sono. Sembra che il fatto così, che ti è accaduto increscioso tanti tanti anni fa, ti abbia indirizzato verso una strada che era quasi segnata. Io non so, io credo in Dio. Penso che ci sia stato un influsso veramente divino dall'esterno, qualcosa. Io adesso ho puntato a 137 anni. Uno è Dio, tre è la Trinità, sette è lo Spirito Santo. Sono un po' matto, un po' particolare. Però nel senso che è possibile arrivare anche oltre i 120. Però bisogna fornire tutto l'organismo, bisogna evitare il stress, bisogna tenere un stile di vita corretto, bisogna avere fede, perché uno deve avere fede in qualcosa. Avere fede in Dio è il massimo, perché Dio non può toccare nessuno. E si può avere tutto da noi. L'ambiente circostante non ci aiuta molto in questo periodo storico che stiamo vivendo. Purtroppo no, perché abbiamo inquinamento dell'acqua, inquinamento dell'aria, inquinamento dei cibi. Abbiamo un... Cioè, guarda quante macchine ci sono in giro. Tutte emettono degli scarichi. Noi ce li respiriamo tutti i giorni. Allora, se tu dai all'organismo degli elementi tipo il glutatione, tipo la vitamina C, tipo gli antiossidanti, che riescono a controllare queste sostanze tossiche, tu riesci a vivere più a lungo, altrimenti ti ammali. I bambini sono destinati alla malarsi molto di più. Questo è il loro futuro. Se non prendono integratori. Perché anche lì, cioè io dico, da bambini escono dall'ospedale, gli danno la vitamina A, la vitamina D, poi basta, dopo più niente, non serve più niente. Serve sempre, serve sempre. L'organismo ha sempre bisogno, per tutta la sua vita, di questi elementi importantissimi, in quantità ottimale. Giuseppe, come vedi il tuo futuro? Il mio futuro, dico il mio personalmente, io lo vedo bene. Perché se ti ho detto, se stai attento a tutte le cose, tu puoi vivere al massimo di vita. Perché l'importante è vivere fino all'ultimo momento in salute, avendo energia, vitalità, buon umore, avere la capacità di essere autosufficienti. Questo è importante. Poi, a un certo punto, la vita deve finire, però deve finire in un modo, avanti con gli anni, in un modo non drastico. Questo è importante. Importante anche l'ottimismo? L'ottimismo è fondamentale. La persona che ha ottimismo vive molto di più, si ammala meno, ha meno problemi, supera tutto. È fondamentale l'ottimismo. Fondamentale. Ritorneresti in farmacia? In farmacia, ma cambiando la farmacia. La farmacia, farei una farmacia con un piccolo arsenale per un momento acuto. E poi fornire tutto alle persone che servono per mantenere salute. Questa è la farmacia che io gradirei. Gradirei. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.